ciao fragoline nuovo video come leggete dal titolo voglio darvi consigli e voglio dirvi come io ho fatto a crescere su youtube sul mio canale per cui è una via di mezzo vi dico sia miei consigli come crescero sul canale e come ho fatto in poche parole allora prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e seguirmi su instagram allora voglio dirvi in breve come ho fatto io a crescere sul canale all'inizio quando io ho aperto il canale avevo solo 200 iscritti a malapena ero piccola piccola poi ho incontrato delle persone che mi hanno contattato sotto nel mio video che adesso mi ricordo ma avevo già fatto vedere dove queste persone mi hanno scritto questo commento sotto dicendo che loro stavano sponsorizzando i canali e per far crescere il canale facevano queste sponsorizzazioni io all'inizio non sapevo che cosa voleva dire poi gli ho detto poi ho guardato un loro video dove sponsorizzavano questi canali e allora alla fine gli ho detto va bene sponsorizza il mio canale no perché hanno visto che era era poco si sono iscritti al mio canale dopo una settimana mi hanno sponsorizzato nel loro canale praticamente hanno fatto vedere il mio canale hanno spiegato quello che facevo e dopo neanche un giorno praticamente perché loro avevano 10 mila iscritti dopo neanche un giorno il mio canale a c'è in poco tempo e ha iniziato a salire e sono arrivata che erano sui 500 iscritti qualcosa del genere e piano piano in poche parole aumentavano gli iscritti perché questi in questi queste persone come avevano sponsorizzato nel loro canale ovviamente per ringraziare loro di questo gesto tutto il video che è già sul canale da tanti anni se non l'avete visto andatelo vedere sorranno passati più di cinque anni dove sponsorizzo anch'io questo canale dicendo praticamente grazie per quello che mi hanno per quello che hanno fatto per me io all'inizio crescevo così in poche parole poi diciamo che quando parto il canale non c'era la monetizzazione non youtube non ti pagava e per cui era un passatempo adesso è diverso perché da quando youtube ha attivato la monetizzazione da quando youtube pagano le persone che adesso è diventato lavoro perché prima era un passatempo ti divertivi a fare i video invece adesso le persone pensano solo a guadagnare su youtube e giustamente loro guardano gli iscritti allora praticamente diventa un lavoro è un lavoro e guadagni sì ma guadagni cioè se hai un milione di iscritti e hai più di 50 visualizzazioni sì guadagni più di 1000 euro al mese ma se tu hai meno iscritti cioè 100.000 iscritti meno e hai pochissime visualizzazioni non è che guadagni cioè ti entrano a malapena quei centesimi un euro a video cioè per farvi capire non è che guadagni chissà cosa comunque le poi le persone sono andate fuori di testa da quando youtube attivato la monetizzazione e allora in poche parole adesso stanno praticamente che creando canali e fare video anche a caso così adesso di come avete capito e e alla fine io all'inizio andavo sugli altri canali dicendo di iscrivervi al mio canale così ricambiamo i favori in poche parole lui si iscriveva al mio io mi iscrivo al suo io commentavo sempre sui sui video e lui commentava sui miei video per farvi capire all'inizio era così no in teoria anche adesso è così che tu passi in un canale ti trovi un commento sotto iscriviti al mio canale che io ricambio comunque per farvi diciamo in breve perché il mio cellulare sta anche sclerando e ogni volta mi chiude la registrazione non ho capito perché comunque andiamo al dunque i miei consigli e lo passiamo i consigli perché io vi ho spiegato a breve sanno questo video durano l'eternità e oltre sì vi ho spiegato vi ho spiegato quello che è successo a me all'inizio i canali venivano a scriversi sul mio canale e infatti i miei iscritti aumentavano come adesso che aumentano e come adesso ricevo commenti sul genere iscritti nel mio canale io ricambio vabbè comunque detto questo vi consiglio prima di tutto di fare dei video che piace a voi ma anche a quelli che vi guardano ad esempio io ho notato che i video che piacciono di più sul mio canale è i gratte vinci il blog e lo shopping questi tre video anche prodotti finiti sono quelli che piacciono di più le persone e anche a me piacciono per cui ho notato che le visualizzazioni sono alte arrivano 200 visualizzazioni non dico alte ma sui 200 che già è buono per me per cui c'è devi valutare anche i video che devi fare devi valutare se piacciono le persone e in più devi valutare che non devi calcolare gli iscritti ma devi calcolare le visualizzazioni io vi dico che non dovete pensare ai soldi cioè in senso che se pensate che youtube guadagni che con youtube guadagni una minima cifra poco poco e poi pensi a ma che bello youtube mi dà i soldi mi paga allora io faccio video così alla cavolo no non pensate di sui soldi pensate a divertirvi pensate ai video che fate se vi piace quello che fate voi eccetera non ai soldi perché ci sono persone anche youtube che guardo che pensano solo i soldi e se la tirano come per come se non lo so guadagnano che c'è sì guadagnano più di uno stipendio però c'è quando poi vedo sponsorizzazioni collaborazioni che noi ogni volta che guardo video sono sempre le stesse cose cioè dovete essere naturali dovete essere voi come se che ne so state facendo qualcosa in casa prendete la telecamera registrato quello che fate ma dovete essere voi non essere falsi in poche parole come vedo molta gente che fa e riesce a guadagnare di più su youtube e aumentare gli iscritti comunque il mio quello che voglio dirvi è se avete già superato i 1000 iscritti non pensate aumentare gli iscritti dovete aumentare le visualizzazioni nel mio caso si sono arrivato 2000 iscritti per l'amor di dio per me è un traguardo enorme c'è sono felicissima però dopo sette anni avere 2000 iscritti c'è sinceramente un po poco avere 2000 iscritti dopo sette anni per cui io ci rimango male sul fatto che ho più di 2000 iscritti ma ho 50 persone che guardano i video per cui mi domando se una persona si iscrive al canale poi non guarda i video che senso ha non è bello capito per cui vi consiglio dopo aver superato i 1000 iscritti non pensate agli iscritti pensate alle visualizzazioni perché tanto se avete superato i 1000 iscritti e 4000 visualizzazione credo 12 mesi adesso non mi ricordo e avete la monetizzazione attivata dovete pensare alle visualizzazioni perché le visualizzazioni qua c'è con quelli guadagni non con gli iscritti non so se molta gente ha capito questa cosa però secondo me no non ha capito niente perché ricevo tutti commenti sotto i miei video con scritto dai se tu ti iscrivi al mio canale io mi scrivo il tuo ma non funziona così c'è tu dopo aver superato i 1000 iscritti devi guardare le visualizzazioni non gli iscritti come vi dicevo prima io ho 50 visualizzazioni a malapena sui miei video ma 2000 persone che si sono iscritti al mio canale e io mi domando ma dove sono queste 2000 persone che si sono iscritti al mio canale se i video che pubblico non c'è nessuno che li guarda è un mistero sta cosa per cui non lo so comunque io vi do un consiglio pensate alle visualizzazioni pensate ai video che fate ai video divertenti che piace a voi e che piace a quelli che vi guardano non pensate alla monetizzazione e ai soldi questo è un consiglio che vi do il mio consiglio anche di non stressare le persone andando negli altri canali dicendo che bel video ti iscrivi al mio canale così lo faccio anch'io cioè è brutto all'inizio si lo facevi perché era un passatempo tu pensare gli iscritti crescevi e e lo potevi fare adesso che c'è la monetizzazione e che ovviamente paghi che youtube ti paga ovviamente youtube ti paga per la pubblicità più persone guardano la pubblicità più tu guadagni se non c'è nessuno che guarda la pubblicità e non appunto che io faccio i video di 10 più di 10 minuti perché se tu fai meno minuti di video cioè in senso se io faccio meno di 10 minuti di video le pubblicità non sono tante sono di meno e guadagno molto di meno se io invece faccio più di 10 minuti di video io guadagno di più cioè in senso ti entrano i più 2 euro a video perché le pubblicità sono tante le persone guardano il video fino alla fine perché devono guardarlo fino alla fine se no non guadagni e non ti entra diciamo di più io preferisco diciamo che una persona guarda fino alla fine video e giustamente che appunto guardi un pezzo di pubblicità ma aumenta diciamo la cifra se tu fai un video di meno di 10 minuti è normale che non guadagni niente cioè il prezzo è basso guadagni un centesimo video per farvi capire per quello che io faccio video di più di 10 minuti anche se le persone non mi guardano proprio per niente forse boh perché non piace quello che faccio eccetera non lo so però io cerco sempre di migliorare e di non fermarmi mai ovviamente per fare un video di avere una qualità ottima ad esempio il registro con l'iphone 11 per il momento perché sto trovando una telecamera decente di ottima qualità che costa più di 400 euro per registrare video quando troverò una macchina decente per registrare video comprerò quella per cui per il momento sto registrando con l'iphone 11 che di qualità è eccellente ottima per cui ci serve qualcosa un telefono una telecamera da registrare con ottima qualità e poi ovviamente montare il video come si deve calcolate che dipende dalle registrazioni che voi mettete cioè ad esempio se il video dura 10 minuti dovete montarlo come si deve non così alla cavolo per cui dovete guardare quello io vi consiglio di guardare davvero le visualizzazioni perché se guardate le visualizzazioni siete più soddisfatti se vedete gli iscritti e dite che bello sto crescendo sul canale gli iscritti aumentano ma le visualizzazioni sono poche è brutto sinceramente questo mio consiglio che vi do sono consigli che vi do io e che ho che sto imparando piano piano per crescere sul canale infatti all'inizio pensavo gli iscritti c'è pensavo gli iscritti ma le visualizzazioni erano 20 persone aumentavano gli iscritti e come adesso aumentano gli iscritti ma le visualizzazioni sono pochissime e io ovviamente ci rimango male perché dico cavolo ci metto di impegno ci metto due giorni per fare un video è brutto vedere che poi hai solo 20 persone che ti guardano cioè è bruttissimo ciao aumenti di canale ma credo che avete capito che cosa intendo per cui questi sono i miei consigli vi consiglio anche cioè io ad esempio a me piace quello che faccio piace registrare piace montare piace parlare con persone e conoscere le persone anche se sono virtualmente a me piace questo per cui io non guardo youtube a cavolo youtube mi paga sono arrivato 2000 iscritti che bello no io penso alle visualizzazioni se ho poche visualizzazioni per me è brutto appunto perché ci metto tanto di impegno e avere pochissime visualizzazioni e gli iscritti che aumentano è bruttissimo già vi avviso io la penso così fatemi cioè fatemi sapere voi cosa ne pensate e se avete aperto un canale se siete piccoli però io vi consiglio veramente di non andare canali negli altri e dire iscriviti al mio canale che io ricambio no se tu vuoi davvero seguire una persona perché ti piace per quello che fa eccetera seguitela loro piano piano inizieranno poi a seguirti perché loro vedono cavolo questa persona sempre a commentare i miei video è sempre presente si è affezionata anche perché dopo un po cioè io mi affeziona le persone specialmente ai canali che seguo eccetera o anche le persone che mi scrivono sotto i video io dopo un po mi affezione io sono fatta così anche se non li vedo ma poi piano piano li vedi le persone cioè quando poi decidi di dire ok voglio vedere quella persona lì che ogni volta sempre presente sotto i miei video o vuoi anche essere perché certe volte mi scrivo anche in privato con le persone che mi scrivono sotto nei commenti e diciamo che dopo un po poi io vedo la persona dal vivo per cui fai anche amicizie per cui questo è il mio pensiero quello che penso io io vi dico solo di divertirvi e di non pensare alla monetizzazione dei soldi perché se pensi a quello state tranquilli che non si alzano si abbassano vi dico solo quello poi vi dico anche che ho ricevuto molti commenti su tutti gli altri video dove molte persone molte ragazze mi hanno scritto vabbè mi piace molto il tuo canale sono nuova iscritta se ti va passa sul mio o certi ti lascio nel link sotto il tuo video io rimango c'è così come per dire grazie c'è tu pensi solo che io passo per iscriverti al canale e basta infatti molte persone che si sono iscritte al mio canale che sono queste duemila persone che mi hanno scritto di iscrivervi cioè di iscrivere anch'io al loro canale loro non si sono più fatti sentire non guardano più i miei video non commentano sotto i miei video hanno solo commentato quella volta quando mi hanno scritto che bel canale io mi sono iscritta scriviti anche te sul mio poi dopo vado avanti e dico ma però più passano i giorni passano i mesi queste persone che mi hanno scritto che si sono iscritte al mio canale non sono presenti sul mio canale per questa cosa anche un po così così cioè non è che sia bello per cui se vuoi iscriverti al canale iscriverti ma cioè partecipa al canale non iscriverti basta solo per avere un iscritto perché alla fine con gli iscritti non ci guadagni ci guadagni di più con le visualizzazioni io ve lo dico questi sono i miei consigli mi sono delungata tanto per me era molto difficile crescere e come adesso anche se la monetizzazione attivata per me è difficile crescere perché dopo otto anni volevo almeno 10m iscritti e invece i 10m iscritti non sono arrivati forse perché i miei video non sono diciamo tanto belli anche perché si durano di più però secondo me i video se durano di più sono fatti bene e la persona che le ha fatti ci mette tanto di impegno che fare un video che dura molto di meno secondo me per cui non lo so solo solo che io non mi fermo vado avanti mi impegno sempre e cerco di crescere lo stesso anche se dopo sette anni quasi otto anni di canale non non sono così alta di numero di iscritti ma non solo di iscritti ma anche di visualizzazioni che non ne ho per cui questo è quello che penso io e niente andrò così farò video per quelle 20 persone che davvero ci tengono e che piace quello che faccio sul mio canale detto questo spero che questo video vi è stato utile spero che vi è piaciuto fatemi sapere se volete che parlo su altre cose sempre su youtube per aiutarvi ripeto io aiuto le persone ma se poi le persone me la mettono in quel posto e parlo su youtube come successo sinceramente poi ci rimango male perché io posso aiutare le persone ma se poi dopo tu non mi aiuti non ricambi e non parlo di iscrizioni o di visualizzazioni ma di quello che facciamo insieme sinceramente è proprio brutto per cui non so neanche se avrò più il coraggio di aiutare le persone che me lo chiedono sinceramente detto questo noi ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto lasciatemi like un like così ne farò altri per aiutarvi capire un po come funziona youtube noi ci vediamo al prossimo video ciao